Devo dire che stavo stamattina preparando queste considerazioni quando sono stata varie volte interrotta ancora dalle notizie tragiche che arrivavano dalle zone terremotate e quindi anch'io non posso non cominciare, anche come Ministro del Lavoro e sapendo che le persone colpite nuovamente sono lavoratori, non posso non cominciare con un ricordo sofferto di queste vittime e troppo spesso noi dobbiamo cominciare sempre ricordando delle vittime per eventi, quel terremoto è naturale ma non è naturale che crollino gli edifici ogni volta che la terra scuote e in altri paesi non succede. Grazie.